Allora Presidente, una nuova edizione di Selvatica, si parte adesso, si va avanti fino a quando e poi diamo due indicazioni anche per che cosa ci sarà da degustare. Prossimiamo il 10 di novembre, sono tutti prodotti nel territorio, come ogni edizione per il quinto anno la formula che a noi piace è quella di dare la massima libertà ai ristoratori di scena. Però di valorizzare i prodotti del territorio, tutti valorizzamoli. Quello del pesce lo facciamo poi, questo invece è del pesce di mare, sul territorio, le fonti, le laghi, le sorgenti, funghi, nel periodo è anche buono, sono anche le castagne che ce ne sono un sacco, poi continua ad esserci un sacco di primavera. Che adegene hai avuto? Buono, buono, secondo te, perché l'organizzata appunto è da Fittà, ci sono stati l'attività è fatta dal concommercio, per cui i risultati in passato sono sempre stati, per cui l'adesione c'è sempre. Ma soprattutto ti vedo, è la formula che è anche abbastanza interessante, sia per coloro che vi partecipano, sia per coloro che la promuovono all'interno del proprio ristorante. C'è questo menù, quindi il menù è diverso l'uno dall'altro, che è la cosa più difficile da comunicare, per cui abbiamo il sito, abbiamo la pubblicità, abbiamo tutte le ricette che sono poi pubblicate, e per cui puoi scegliere sia il prezzo che il prodotto. Perfetto, c'è anche il comune di Como con l'assessore Capeletti, ciao, buongiorno. Aderite anche voi in giù a questa cosa qua, vale la pena. Noi ci mangiamo, ci hanno invitato, però l'anno prossimo mi piacerebbe collaborare con il comune, con loro, visto che abbiamo tante attività del comune di Como, tante fuori, è un po' l'idea anche del comune, nel senso che per il bando di Natale avere il chilometro zero, quindi direi che siamo perfettamente in linea con loro. O meglio, apprezzare quello che c'è sul territorio, perché c'è davvero tantissimo. Grazie Michele, grazie Presidente, buon lavoro. Ciao, grazie.